La battuta di Bossi, poi si va da Beretta al centro, c'è il tocco del muro di Stankovic, seconda opportunità per Monzi in attacco, la pipe, la difesa, può rigiocare Modena, Carlicek senza rincorsa, l'appoggia, la difesa di Orduna, Federici, alto in quattro per Senna, c'è il tocco al muro, Modena, ancora in difesa, la via va da Nema, senza rincorsa, Nema Petric, Con la maglia numero quattro, solo colpi d'autore Se volete dedicare una poesia alla vostra fidanzata, regalatevi il replay di questo attacco di Petric Quanto la battuta di Bossi, l'attacco di Beretta, lasciato in campo da soli, Carlicek in palleggio, azione confusa, copre Modena, ancora Petric, di agonare stretto, con Modena che la tiene viva E Petric fa il resto, di pura tecnica Allo servizio Thomas, la registrazione in palleggio di Levia, bruttarella, e poi non cade il pallonetto di Petric, coperto, lagunzi in attacco, prova a spingere Ma non si passa da quella parte, dove c'è Nema Petric, 15 a 14 Sarà una free bull per Modena, no è un contrasto a rete, Monza può tornare ad attaccare Il muro, la copertura, la palla è lì, Petric in attacco a Petric, la copertura, dov'era Grebelnikov, è spuntato dal nulla La copertura, ancora, Petric, palla a fila, pallonetto, Nema, Petric, Nema, Petric, Alessandro Dimmi quanti Grebelnikov ci sono in campo, perché è comparso almeno quattro volte dalla selva Grande copertura anche di Levia, la seconda, non facile, grande intuito Poi Petric ci ha messo la sua maestria, il suo genio Oh!